Il Covid-19 è un virus subdolo ed è giusto e doveroso prendere le corrette precauzioni. Ma c'è un virus ancora più subdolo, quello dell'indifferenza verso le realtà trascendentali tra molti uomini di questa società globalizzata, dove pare che il denaro ed il potere siano la priorità assoluta da raggiungere calpestando i valori universali, la verità e la dignità di ogni persona, dal suo concepimento sino alla morte. Anche questo virus va combattuto seriamente perché è molto pericoloso in quanto rovina gravemente anche le anime immortali.